L'incontro che c'è stato tra il sindaco di Firenze e Dario Nardella e il premier Matteo Renzi pare abbia toccato anche la possibilità di modificare quelli che sono alcuni degli interventi previsti in città. Si parla di modifiche sia al tracciato della tramvia, sia al tracciato della TAV, ma queste nuove modifiche, questi spostamenti, compreso anche l'annoso problema dell'aeroporto, come potrebbero ricadere sul turismo? Sicuramente il tema delle infrastrutture è un tema centrale e la ricaduta sul turismo è diretta ed immediata, sul turismo è sull'economia di un territorio, ricordo che tutto ciò che oggi parla di sistema infrastrutturale deve riguardare ovviamente tutto un sistema imprenditoriale, che non è soltanto il turismo. Il turismo ne è una gran parte e questo lo dico con forza perché non viene mai sufficientemente pesato, quindi è evidente che comunque il sistema infrastrutturale agevola sia gli spostamenti, sia quelli per lavoro, sia quelli ovviamente legati alle vacanze. Il tema dell'accessibilità è l'altro tema fondamentale di un territorio, di una città come Firenze in particolar modo, una città che ha deritare di enormi, causati da mancate scelte fatte decenni fa, di cui oggi noi ne stiamo supportando e sopportando tutto il peso e a cui le amministrazioni, sia quella del Renzi sindaco e di Nardella attuale, stanno cercando di porre rimedio.